Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In particolare l'associazione Laboratorio Ottanta e la Labo Tanta Film. Ringraziamo Long Take e Simone Soranna che ieri hanno condotto un incontro molto divertente e molto partecipato sulla figura del detective nel cinema di genere. Naturalmente ringraziamo per la quarta edizione dell'assegnazione del premio Cavaliere Giallo. Ringraziamo l'associazione Cavaliere Giallo che crede molto in questo progetto visto che è il quarto anno che lo promuove e che lo sostiene con anche grande partecipazione. Per questo siamo veramente molto molto contenti. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato naturalmente che hanno mandato le loro sceneggiatura perché è stato un piacere, è stato divertente per tutti noi e per tutti i giurati leggere le proposte che ci avete mandato. In particolare adesso voglio presentare gli altri giurati come quelli che sono presenti. Non è presente purtroppo Vincenzo Mani dell'associazione Cavaliere Giallo perché questa sera non ha potuto partecipare, però vi presento Maria Teresa Zola che è presidente dell'associazione Cavaliere Giallo. Hans Tuzzi, scrittore nonché socio onorario dell'associazione Cavaliere Giallo e anche presidente della giuria. E Daniela Vincenzi della Federazione Italiana Cineforum. Grazie a voi, è stato un piacere comunque lavorare insieme in armonia anche quest'anno per la giuria e personalmente voglio ringraziare anche i miei colleghi che hanno lavorato dietro le quinte per questa edizione. In particolare Anna Maria Materazzini, Simone Voglioni, Adatullo e naturalmente Angelo Signorelli. Questa sera avremmo voluto proiettare in sala il film di François Truffaut finalmente domenica. Ovviamente tutta questa serata era stata progettata per essere realizzata in presenza. Questo non è stato possibile, però per fortuna siamo riusciti a metterci in contatto e a collaborare con la piattaforma Movie. Per quelli che la conoscono sanno già che propone un catalogo di film di qualità d'autore, film che vengono da altri festival e o anche film classici. È un catalogo dove si possono vedere soprattutto film in HD e anche in lingua originale e con i sottotitoli. Insomma potete scegliere se invece preferite vedere i doppiati, però ovviamente appoggiamo la versione originale con i sottotitoli. Quindi potrete vedere gratuitamente sulla piattaforma Movie il film, l'ultimo film di Truffaut, che è un giallo che fa riferimento al noir, ai canoni del noir hollywoodiano e hitchcockiano degli anni 40-50. È molto piacevole perché poi comunque ovviamente inserisce il suo stile, lo stile di Truffaut con i toni dell'ironia e anche della commedia romantica. Per cui è molto, molto divertente, molto piacevole da vedere e potete vederlo seguendo le istruzioni che trovate sulle nostre pagine social e sul nostro sito internet e anche sulla newsletter che riceverete nei prossimi giorni. Quindi comunque avete anche la possibilità poi di avere una prova di abbonamento per tre mesi gratuito. Quindi diciamo una proposta che vi consigliamo di non perdere. Io credo di non dover raggiungere altro, quindi lascio la parola a Maria Teresa Zola che vi condurrà lungo questa cerimonia di premiazione e grazie a tutti della partecipazione. A te Maria Teresa. Grazie Fiammetta. Come hai già anticipato io sono la presidente dell'associazione Il Cavaliere Giallo. È un'associazione molto vivace che ha come fine quello di promuovere e realizzare attività di produzione artistica spaziando nelle arti. Infatti si chiama Il Cavaliere Giallo Amici delle Arti perché noi spaziamo dalle arti visive all'architettura, il design, la musica, la danza, il teatro e il cinema. Ma tutto all'insegna dell'interdisciplinarietà e della trasversalità perché a noi piace coinvolgere le associazioni del territorio, le istituzioni culturali e facciamo sempre queste cose appunto in sinergia con altri. E questo dà secondo me un valore aggiunto importante. Inoltre vuole essere un laboratorio di nuove opportunità e una delle mission è quello di dare risalto ai giovani talenti. E quindi vedete che insomma ci siamo vuole far incontrare competenze, intelligenze ed energie e risorse di quanti vogliono condividere il sogno di contribuire alla vivacità e alla spinta diciamo culturale che una città come la nostra merita. Per fare questo mettiamo a disposizione come volontari un sacco di fantasia, di impegno e di creatività. Uno degli aspetti appunto della nostra creatività è stato quello di far nascere anche questo premio. Il premio alla miglior sceneggiatura gialla poliziesca noir nasce da un'idea di Vincenzo Magni che questa sera purtroppo non è con noi ma è stato un prestigioso past president del Cavaliere Giallo. Un accanito lettore di giallo e appassionato di noir e quindi dobbiamo a lui la realizzazione di questa iniziativa che si sta affermando sempre di più e che vuole diventare nel tempo un punto di riferimento per i giovani e anche no di autori di sceneggiature. Quest'anno ci sono pervenuti ben 56 elaborati, tanti. Devo dire che non è stato un compito facile quello della giuria selezionare e giungere ad una rosa finale perché molti sono stati i soggetti interessanti, gli iscritti coinvolgenti e quindi abbiamo dovuto lavorare, approfondire, discutere a lungo. Ci siamo anche divertiti perché alcuni soggetti sono anche molto divertiti ma questo dimostra che la qualità degli elaborati si sta alzando sempre di più e di questo siamo estremamente felici. Ma di questo ci parlerà sicuramente in maniera più approfondita il presidente della nostra giuria che è noto scrittore, saggista e consulente editoriale, docente universitario al master in editoria, nonché affascinante affabulatore e socio onorario del Cavaliere Giallo. Adriano Bon, in arte Hans Tuzzi. Quindi con molto piacere passo la parola ad Adriano. Adriano a te. Buonasera. Spero di essere un buon affabulatore anche a distanza. Come ha detto Maria Teresa Azzola, il premio ormai giunto alla sua quarta edizione è ben vivo e lo dimostra sia il numero di sceneggiature giunte, sia il fatto che quasi tutti gli autori provengano da studi di scuole professionali per la sceneggiatura cinematografica. Questo si vede perché per scrivere un buon testo, sia esso letterario o cinematografico, ci vuole una buona idea iniziale, ma l'idea non basta. Bisogna sapere come svilupparla, bisogna darle un linguaggio, una lingua adatta e bisogna conoscere i trucchi del mestiere. In effetti, per usare una immagine ippica, la dirittura d'arrivo è stata molto molto affollata. Siamo andati quasi in fotografia e questo non lo dico per la consolazione di chi questa sera non è qui e non riceve l'attestato del premio, ma proprio per dare fiducia a questi giovani che si muovono in un ambiente non facile, non facile e reso ancora più difficile dalla situazione in cui si trovano l'Italia, l'Europa e il mondo. Che la ricchezza dei manoscritti presentati fosse rilevante lo dimostra il fatto che, come già in passato, anche quest'anno abbiamo deciso di andare al di là dei tre attestati previsti dal premio e di dare anche una menzione speciale. L'abbiamo data perché l'autrice è anche la più giovane fra i partecipanti e quindi desideravamo offrirle la conferma della qualità del suo lavoro che naturalmente nel tempo non potrà che migliorare e depurarsi dei piccoli difetti. Abbiamo quindi una prima menzione, una menzione speciale a La cura di Sofia Ranise, perché la trama ben congegnata presenta ottimi tempi scenici, buoni raccordi interni e una prosa perfettamente rispondente al compito prefisso. La giovane età dell'autrice fa perdonare un finale che si lascia attentare dall'eccesso. Come già per le precedenti edizioni, ce ne offre una prima lettura Riccardo Nisimo Norato, che ringrazio qui a nome di noi tutti. La cura di Sofia Ranise Interno studio, terapista, sera. Cinque uomini seduti in cerchio, delle dita affusolate picchiettano nervosamente su una coscia. A rompere il silenzio è la voce di un giovane che non smette di gesticolare. Continuava a urlare, come se avesse paura, stronzate, godeva, ve lo dico io. Ivan, 35 anni, ha gli occhi di tutti puntati su di sé. C'è chi cambia posizione sulla sedia, chi si morde le labbra, chi non riesce a fermare il tremolio delle gambe. Ivan, non potevo smettere. E poi aveva queste mutande di pizzo rosa. Si intravedevano da sotto il vestito. Dico, se ti vesti così te la vai a cercare, no? Gliele ho sfilate e me le sono messe. Una voce femminile, gentile e decisa, interrompe il discorso. Rita, e questo sogno come ti ha fatto sentire? Rita, 46 anni, sta dirigendo la terapia di gruppo. Osserva attentamente i comportamenti dei suoi pazienti e prende appunti. Ivan, com'è la prima volta? Rita guarda all'orologio e è tardi. Rita, ringraziamo Ivan per quel che ha voluto condividere con noi. Per oggi può bastare. State facendo dei grandi progressi e sono molto fiera di voi. Ci vediamo martedì prossimo. La psichiatra si alza sorridendo, si toglie gli occhiali ed esce dalla stanza. Mentre tutti sistemano le sedie, un paziente, Renzo, 50 anni, la segue timidamente. Sul suo viso paffuto scorrono gocce di sudore. Renzo, dottoressa, Rita si volta, riguardo alla terapia. Io volevo, Rita, lo so, non ti preoccupare. Le prime volte non è facile. Parla solo se te la senti. Senza pressione. Renzo, no, non dico quello. È che ho paura. Rita, è normale essere spaventati. Vedrai che col tempo l'uomo invadendo lo spazio fisico di Rita le prende le mani. Renzo, ho paura per lei, dottoressa. Queste persone sono come me. Lo vedo come la guardano e so cosa vorrebbero farle. Rita stringe la mano di Renzo e la porta a sé. Rita, non cedere alle tue paure. Se ti fa stare tranquillo, nessuno dei miei pazienti è mai tornato in prigione. Renzo, non convinto, si allontana. Torna nella stanza per prendere il cappotto, ma il suo sguardo indugia su Ivan. Nascosto tra le mani ha dell'intimo da donna di pizzo rosa. Esterno vicolo, notte. I fari di una macchina grigia si spengono. Dalla vettura scende silenzioso Renzo. A pochi metri da lui, Rita, ferma davanti alla porta di casa. Cerca qualcosa nella borsa. Renzo la fissa e poi, quasi sorpreso, inizia a correre verso la psichiatra. Quando Rita lo vede, l'omone le è già addosso. Dalle mani la afferrano e la tirano indietro con forza. Rita, lasciami! Si sentono delle urla e Renzo, inciampando sullo scalino d'ingresso, cade, sbattendo la testa. Giace in una pozza di sangue. Interno centrale di polizia, notte. Dennis, trent'anni. Un giovane agente risponde all'ennesima chiamata. Dennis, centododici, qual è l'emergenza? Rita, aiuto! C'è un uomo morto! Non respira! Credo, credo, credo di averlo ucciso. Brava, Sofia! Complimenti! Allora, sei molto giovane e hai affrontato un tema davvero molto delicato e molto complesso. Come ti è nata l'idea di questo racconto? Uno, e poi raccontaci un po' chi sei, che cosa fai e quali progetti hai per il futuro. Innanzitutto ringrazio davvero tantissimo, sono molto emozionata. Sono Sofia Ranisi, ho 17 anni, frequento il quarto anno del liceo classico. e devo dire che per spiegare come mi sia venuta in mente questa idea, paradossalmente non riesco a trovare le parole, perché è un'idea che mi è venuta scrivendo. Io scrivendo, scrivere per me è una passione che ho avuto fin da quando ero piccola, e soprattutto poi con, sostenuta dalle persone che mi sono state vicine, come per esempio Ornella Bramani, che ha creduto nel mio primo tentativo, diciamo che mi sono avvicinata a questo mondo che è la sceneggiatura, che è la scrittura, che mi ha portato a chiedermi, spinta soprattutto dalla curiosità, come ci si senta a creare dei personaggi in cui gli altri si possano rispecchiare, magari anche negli eventi più drammatici, nelle sfumature delle personalità, e a decidere le loro sorti. Sicuramente credo di dover ringraziare tanto anche per la determinazione lo sceneggiatore che mi ha seguito, mi sta ancora seguendo Massimo Vavassori, che mi ha consigliato questo concorso. Io mi sono, quando ho letto, c'era la possibilità di scrivere un racconto, un giallo, che è sempre stato, ci sono sempre stati, diciamo, i libri da me prediletti fino a quando ero piccola. Io non ci credevo e ho esitato, ho esitato, e non avevo un'idea inizialmente su come scrivere, non mi sentivo proprio all'altezza, fino a quando, diciamo, anche banalmente smettendo di pensare che sembra una frase fatta, ma non lo è mai, mi è venuto in mente di scrivere qualcosa riguardo a una psichiatra, che alla fine è una sorta di alter ego, una sorta di comunicazione con se stessi, riguardo a un tema che è molto frequente purtroppo anche ai giorni nostri, come lo stupro, come l'omicidio, e sicuramente non mi aspettavo di ricevere questa attenzione, e io sono davvero molto emozionata e ringrazio tantissimo anche per questa lettura, mi trema la voce, davvero ringrazio tutti quanti. Grazie Sofia, resta con noi, passo, sei bravissima, passo la parola di nuovo ad Adriano, anzi a tutti. La giuria assegna una menzione a Interrompiamo le trasmissioni di Lorenzo Fontana e Guido Giovannetti. La vicenda riprende una sperimentata struttura del noir, sviluppandola in modo egregio, grazie a un dialogo essenziale e a ritmi ben calibrati, che rendono il capovolgimento finale perfettamente godibile, anche da parte dei lettori più smaliziati. Ne affidiamo l'inizio alla voce di Riccardo Nisim, onorato. Interrompiamo le trasmissioni, Giovannetti e Fontana. Esterno stazione, giorno, è mattina, è quasi mezzogiorno, l'asfalto scotta e cuoce. Interno macchina, Alessio, 35 anni, è seduto in macchina e fuma una sigaretta, appoggiando il braccio fuori dal finestrino. La radio passa a una canzone pop italiana, l'uomo ha un capello ben curato, una camicia con le maniche tirate su e dei pantaloni di un completo. Spegna la sigaretta e la getta fuori dal finestrino. Radio, interrompiamo la trasmissione per una notizia straordinaria. Infastidito, Alessio spegne la radio. In quel momento alla macchina si avvicina Bruno, 40 anni. Ha una sacca di un centro sportivo poggiata sulle spalle. Indossa più vestiti di quelli che il caldo dovrebbe consentire. Cammina a passo svelto, arriva al finestrino. Alessio, Bruno? Bruno, piacere. Bruno ha la mano leggermente sudata, tanto che Alessio si asciuga la sua sul vestito. Bruno, scusa. Alessio, dai, sali. Bruno fa il giro e sali in macchina. Alessio, vuoi mettere la borsa dietro? Bruno, no. Grazie. Alessio, come preferisci? Comunque io mi chiamo Alessio. Alessio guida col finestrino abbassato. Ti spiace se fumo? Bruno fa segno di no con la testa. Alessio prende il suo zippo d'oro e si accende la sigaretta. Alessio, fa caldo, è vero, ma se c'è una cosa che amo è fumare mentre guido. Guarda fuori dal finestrino. Che belli i campi. A Bruno. Da qui a Milano ne vedremo tanti. Bruno annuisce. Arriva un messaggio ad Alessio. Alessio, e se ci va, ha un'altra richiesta di passaggio. Che facciamo? Alessio spegne la sigaretta e la getta fuori. È sulla strada. Non ha una bella faccia, ma sembra simpatico. Esterno piazzola di sosta. Alessio accosta la macchina. Cesare, 43 anni, ha un passo svelto e la raggiunge. È un uomo grasso e stempiato. Ha un vistoso pizzetto e indossa una larga camicia colorata. Un paio di pantaloni corti e degli occhiali da sole. Cesare. Buongiorno. Alessio. Piacere, Cesare. Io sono Alessio. I due si stringono la mano. Cesare entra in macchina. Alessio riparte. Alessio. Sei fortunato. Un attimo dopo e avresti dovuto prendere il treno. Cesare. Hai ragione. Sia benedetta questa app. Bruno. Posso mettere la valigia dietro? Alessio. Certo. Aspetta. Mi accor... Cesare. Passa qui, Bruno. Bruno passa la valigia a Cesare che la poggia accanto a lui. Alessio guida in silenzio. Alessio. Alza un po' la radio. Bruno alza il volume della radio. Radio. È di stamane la notizia del... Bruno abbassa di scatto. Bruno. Che noia. La radio, però. Cesare. Eh, infatti. I tre rimangono in silenzio. Bene. Allora. Allora abbiamo qui i due autori. Lorenzo Fontana, ventisei anni, e Guido Giovannetti, ventinove, tutti giovanissimi, e che sono laureati entrambi alla Scuola Nazionale d'Arte Drammatica di Roma, Silvio D'Amico. Come diceva Adriano, tutti vengono da scuole prestigiose. E quindi sicuramente vi siete conosciuti lì e avete cominciato a lavorare lì. Ma mi interessa che ci raccontiate come si fa a lavorare a quattro mani. Chi comincia, chi ha l'idea, chi scrive, raccontateci e comincia prima Lorenzo e poi Guido a raccontarci come fate a lavorare. Va bene. Beh, io e Guido vediamo appunto come... Alza il volume, ti sento pochissimo. Ok. Mi senti meglio? Pochino. Comunque, vabbè, la scrittura a quattro mani viene anche dal fatto che io e Guido facciamo parte di un piccolo collettivo già di sette persone, quindi abbiamo avuto modo nel corso di questi ultimi anni, da quando ci siamo conosciuti, di scrivere più e più volte, da due a sei persone. Quindi, insomma, abbiamo maturato una certa esperienza anche nello scrivere io e Guido da soli, diciamo. Quindi lavorare con Guido per me è comodo e funziona e va bene. Non so cosa può aggiungere. No, beh, sicuramente appunto la tipologia di lavoro l'avevamo già sperimentata. Soprattutto io e lui avevamo già provato a partecipare anche ad altri concorsi e avevamo sempre trovato un discreto feeling, sia nell'approccio proprio stilistico che tematico, per cui eravamo sicuramente consapevoli che insieme si lavora bene, a prescindere poi da risultati che non erano arrivati finora. Per quanto poi riguarda in sé per sé il testo che abbiamo proposto, abbiamo semplicemente voluto da un lato trattare una situazione contemporanea, come può essere quella appunto del Blablacar, che alla fine richiede sempre un po' un atto di fede verso chi ci porta e chi portiamo nel caso che sia noi a guidare perché vai a sapere se non si è uno squilibrato o meno la persona in questione. E abbiamo poi giocato molto su questo, facendo crescere la tensione rispetto ai due criminali che il buon Alessio si carica in macchina per poi invertire improvvisamente la prospettiva sul finale e quindi realizzare il colpo di scena che vede il criminale vero e proprio essere il guidatore, molto più pericoloso dei due che si è portato dietro. Grazie. Pascio la parola ad Adriano. Sì, vorrei dire una cosa brevissima, che peraltro la scrittura di sceneggiature vede molto più diffusa la partecipazione, il lavoro di coppia o di squadra rispetto alla scrittura letteraria, dove le coppie si contano quasi sulle dita di una mano, Fruttero, Lucentini, Vuming, eccetera. Il cinema o la televisione sono un po' come le cattedrali, ci si lavora in tanti e questo rende anche rispetto al lavoro in sé più difficile naturalmente trovare i mezzi economici per mettere in piedi la realizzazione di un progetto, ma questo non vuole scoraggiare nessuno dei partecipanti. La seconda menzione del premio A Shot in the Dark è a Pas en Jouet di Giulio Fabroni. Giocando con disinvoltura su un passato che sogna il nostro futuro, l'autore imbastisce una trama con un antieroe al di sotto di ogni aspettativa, Jacquard, e seppure con una sbavatura filologica sul curaro conduce in porto un gradevole e autocompiaciuto, sin dal titolo, divertissement, come si può cogliere dalla lettura di Riccardo Misim, onorato. Pas en Jouet, scritto da Giulio Fabroni Esterno notte In un vicolo parigino, stretto e ombroso, sorge un negozietto al cui interno la luce è ancora accesa. L'insegna, decorata con l'illustrazione di un pupazzo a molla che schizza dalla scatola, recita «Se si ne pa, un jouet». D'un tratto, uno starnuto squarcia la notte. Ghignol «Achiu!» E poi un sussulto. Ghignol «Ah!» E un tonfo surdo Voce di donna, voice over Strano a credersi Ma la prima volta che ho ucciso Non è stato nelle selve umide del tonchino Fra i detriti di un villaggio incendiato, no O nella pancia di una nave cargo No Esterno negozio «Se si ne pa, un jouet» Giorno Nonostante il vicolo sia intrappolato fra palazzi più alti Un po' di sole è arrivato A battere anche sull'insegna di «Se si ne pa, un jouet» Come al solito, per strada, non c'è nessuno Calma, piatta Qualche piccione sui cornicioni Voce di donna, voice over La prima vittima è un po' come il primo bacio Non si può scordare La mia è stata un commerciante parigino Negli anni Sessanta Si chiamava Ghignol Un grido femminile I piccioni si alzano in volo Interno negozio Giorno Sulle mensole della piccola bottega Vari giocattoli dall'aria antica Sul pavimento immobile e supino Monsieur Ghignol Sessantacinque anni, stempiato, basette rossicce Voce di donna, voice over Eccolo lì Elegantemente stecchito A pancia in su Suona il campanello Dalla retrobottega si precipita Ciabattando, nenita 50 anni, asiatica La domestica Attenta ad aggirare il corpo del suo ex datore di lavoro Va ad aprire Entrano due uomini Voce di donna, voice over Ah, state a vedere che adesso ci divertiamo Vi presento Jacques, Jacques Hoare Ispettore, Jacques Hoare Police, suicidaire Per qualche ragione l'ispettore Jacques Hoare Sessant'anni, nasone baffi a spazzola grigi Riesce a parlare con l'accento francese Pur essendo a Parigi Al suo fianco c'è Jacques Hoare E questo è il mio assistente Montblanc Montblanc, 45 anni, alto e paffuto Stava per presentarsi Ma l'ispettore non gli ha dato il tempo Richiude la bocca rispettoso Jacques Hoare inquadra il piccolo negozio Con rapide occhiate circospette Da esperto Poi indica il cadavere di Ghignol Jacques Hoare È questo il corpo? Nenita, contrita, fa sì sì con la testa Jacques Hoare si china Spazzando il pavimento con il suo impermeabile E pianta due dita sul collo di Ghignol Attende qualche secondo Impassibile Nel frattempo Montblanc si fa un giro del negozio Gli scaffali sono mezzi vuoti Passa un dito sulle superfici impolverate E urta la prima tessera di una lunga serie di domino Jacques Hoare decide che può togliere le dita dal morto Jacques Hoare È morto Nenita, contrita, fa sì sì con la testa Jacques Hoare Soffriva di cuore? Prendeva farmaci? Nenita, contrita No, no Jacques Hoare Manca qualcosa qui in negozio? Nenita si guarda intorno e annuisce Pensierosa Nenita Molte cose Scaffali quasi vuoti Ieri sera è arrivato Pacco Importantissimo da Vietnam per Monsieur E ora non c'è Montblanc Ispettore Montblanc è dietro il bancone Trionfante indica il cassetto aperto del registratore di cassa Montblanc Entusiasta È vuota Jacques Hoare schizza con gli occhi da Nenita a Montblanc Nenita schizza con gli occhi da Montblanc a Jacques Hoare Jacques Hoare torna a guardarla Lei fa di nuovo per parlare ma lui la blocca Alzando l'indice deve dire la sua battuta Jacques Hoare Qui c'è stata una rapina Guarda il cadavere di Guignol Col morto Si alza con fluidità sorprendente per le giunture di un sessantenne E si dirige a gran passi fuori dal negozio Montblanc si strizza per uscire dal bancone Che è un po' stretto e gli strottorello là dietro Montblanc Frettoloso Anninita Voi lasciate subito la città Voglio dire Non la lasciate affatto Non lasciate la città per nessun motivo È chiaro? Esco Non è niente a restare lì tutta intimorita con le mani in mano Anche Guignol resta lì naturalmente voce di donna voice over E vi meravigliate che io l'abbia fatta franca? Bene Giulio Fabroni 22 anni romano Avrei voluto presentarvelo questa sera Ma il giovane autore è già molto attivo È già molto impegnato E quindi non può essere presente qui questa sera Ma ci ha mandato un video per salutarci e per ringraziarci Quindi adesso ve lo mandiamo in onda Perché così lo vedete dal vivo Buongiorno a tutti Sono Giulio Fabroni L'autore del cortometraggio Panjue Mi dispiace molto non poter essere con voi alla premiazione Ma come vedete sono su uno dei pochi fortunati set che ancora riesce a lavorare Speriamo che continui ad essere così In questi tempi un po' scuri è un piacere sapere di premi come il vostro Che continuano a portare avanti il lavoro della cultura E quindi grazie molte e buon proseguimento A presto Io non so voi ma io non l'ho visto Anche voi ecco Non ero l'unica Beh è un soggetto noir proprio È rimasto coerente con il tutto La voce voice over Per cui Adriano passiamo alla E arriviamo al primo premio Consistente nella somma di mille euro Che quest'anno non verranno consegnati Ma bonificati Verbo mai più adatto come in questa occasione All'autore Che è Michele Gallone Per la sceneggiatura Un padre La motivazione dice Mescolando sapientemente elementi diversi Un futuro non rassicurante La mercificazione degli affetti Una indefinita tensione L'autore confeziona una storia dove la sciuttezza dei dialoghi Crea un crescendo di incertezza e di aspettativa Ben supportato dalle indicazioni di ripresa Questa sottile inquietudine Sospesa sin dalle prime battute della sceneggiatura Rivive ora nella interpretazione di Riccardo Nisimo Onorato Che ringraziamo per la sua vicinanza al premio A Shot in the Dark Un padre Michele Gallone I fumi densi di un soffione boracifero si innalzano Dalla terra arida macchiata di zolfo fino al cielo terzo Di Dascalia in sovraimpressione 2033 I sentimenti sono in vendita È legale vendere un proprio sentimento a un'altra persona Che nutrirà quel sentimento per il destinatario connesso Non è legale vendere il sentimento nutrito da qualcun altro per sé Per quest'ultima operazione esiste un florido mercato nero L'esterno bar giorno Francesco 45 anni Fuma una sigaretta fuori da un bar Qualche macchina sfreccia per la strada È mattina L'uomo si volta e lancia un'occhiata attraverso la vetrata del locale In cui intravediamo una bambina seduta a un tavolo Francesco spegne la sigaretta ed entra Interno bar Anna, nove anni È la bambina seduta al tavolo Francesco le si siede accanto Dandole un buffetto affettuoso sulla guancia Scopriamo che di fronte ad Anna siede un altro uomo Mario, 53 anni Mario Quant'era? Francesco Lascia stare, ho fatto io Un lungo silenzio Anna divora distrattamente il suo cornetto Francesco Ci metti molto da casa tua fin qui Mario Un quarto d'ora Francesco Beh, fattibile Mario non stacca gli occhi da Anna Sembra studiarla con un misto di attenzione e pudore Mario Sta qui la scuola, no? Francesco Dietro l'angolo Interno ufficio Giorno Mario e Francesco sono seduti di fronte al notaio Notaio Per procedere ho bisogno di una dichiarazione sulla motivazione personale da parte dell'esercente Francesco Va bene Dietro il notaio su un monitor scorrono alcune immagini di Anna Mario ha uno sguardo serio e indagatore Notaio Per quanto riguarda l'altra parte della compravendita Sapete che le pene previste per chi vende sentimenti altrui sono severe Quindi comprenderete le ragioni della somma che vi ho chiesto Siamo tutti convinti allora, Francesco? Sì Mario Ho una domanda Notaio Prego Mario In un caso simile funziona al 100% Voglio dire Lei continuerà a sapere che non sono il padre biologico? Giusto? Notaio Questo è un problema che si pongono in molti Ma non esiste Non ci saranno modifiche sul ricordo o sulla coscienza, ovviamente In ogni caso la bambina sarà legata a lei Le vorrà bene come si vuol bene a un padre E lei altrettanto, alla sua maniera Ovviamente agli atti risulterà soltanto l'acquisto del suo sentimento per la bambina Francesco E come funzionerà concretamente? Notaio Basteranno i moduli compilati e la vostra firma digitale La macchina farà il resto Vediamo ricontrollo Scusate ma Il 21 aprile la transazione è programmata per la notte Tra il 20 e il 21 aprile Condotto a 24 Vi risulta? Bene Allora Un padre di Michele Gallone 28 anni, milanese Una laurea magistrale in scienze filosofiche Con la tesi sulla CAN Si sta diplomando al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma E al suo attivo diversi lavori Come montatore, sceneggiatore ma anche regista Allora Michele Che emozione hai avuto Nel sapere che sei il vincitore di questo concorso E quali progetti hai nel cassetto? Buonasera a tutti Mi si sente? Sì Buonasera a tutti Sì, no, io voglio ringraziare tantissimo la giuria È stata una grandissima emozione E poi anche, devo dire, il fatto di avere questa lettura Da parte di una voce così importante Nota del doppiaggio italiano È veramente una grande emozione Un grande piacere E poi vorrei ringraziare tantissimo anche Sara Valentini, che è la mia ragazza Che studia nello specifico sceneggiatura Al Centro Sperimentale I suoi consigli Le sue letture con me I suoi spunti sono stati molto utili Per il lavoro Io in realtà studio montaggio al Centro Sperimentale Mi sto diplomando adesso Quindi tra i progetti imminenti Ci sono il diploma, lo stage E però nel tempo libero Mi piace tantissimo anche scrivere sceneggiature Quindi quando riesco Continuo volentieri anche questa Seconda passione E quindi veramente grazie mille Sono felicissimo Non me l'aspettavo, devo dire Non me l'aspettavo Perché mi rendo conto che non è una sceneggiatura Che corrisponde perfettamente ai canoni del giallo Del poliziesco Nello specifico Però comunque sicuramente Si tratta di un thriller per certi versi Quindi sono felicissimo Grazie Michele Devo dire che sì A me è emozionato Per cui mi ha anche colpito molto E quindi ringrazio prima di tutto Tutti voi che siete qui questa sera Ah ecco no Volevo dire che tutte le menzioni A tutti quelli che hanno ricevuto la menzione Riceveranno una pergamena Che di solito Quando siamo dal vivo Consegniamo a mano Ma questa sera è impossibile E vi verrà recapitata per posta Perché è importante Che rimanga appunto così L'attestazione La traccia di questo Di questo evento E di questa appunto Attribuzione Di queste menzioni Quindi ringrazio voi Ringrazio la giuria Che è stata davvero Ha lavorato molto bene Ringrazio il presidente Tutto lo staff di Bergamo Film Meeting Ma soprattutto Voglio ringraziare Il pubblico di appassionati Che ci segue Da lontano Spero che sono tanti Per cui diciamo Che questa cosa Di essere Non dal vivo È vero che ci Ci ha limitato Perché è più bello Essere vicini Stringersi le mani Ma questa volta Forse abbiamo raggiunto Anche un pubblico Molto più vasto E questo Secondo me Diciamo Troviamo il lato positivo Anche in questa Versione digitale Che però Secondo me È molto Così Importante Sono contenta Di aver conosciuto Questi giovani autori E devo dire Che un'altra volta Insomma È vero Che i più giovani Questa volta Hanno vinto E sono molto contenta Di questo Per cui Io Se nessun altro Vuole Commentare Vi saluto E Vi aspetto L'anno prossimo Cioè Ci rilassiamo L'anno prossimo Per l'edizione Per la quinta edizione Di questo Di questo Importante Di questo premio Va bene Grazie a tutti Arrivederci a tutti Allora Grazie a tutti Grazie 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 a tutti Grazie a tutti